Notte da incubo tra Arezzo e Monterchi, una coppia di nigeriani in balia di otto connazionali. Lei violentata, lui massacrato di botte. È successo lo scorso 6 ottobre. L'incubo, nato da un raggiro per la coppia di fidanzati, era iniziato a Campodimarte, dove lei di 23 anni e lui di 27 si erano incontrati. Lui arrivava dall'Aquila, lei invece lo aveva raggiunto da Ferrara e proprio nei giardinetti la coppia ha incontrato il gruppo di connazionali che gli ha offerto ospitalità. Sono così saliti tutti su un autobus verso Monterchi. All'arriva l'appartamento dove abitano i nigeriani, all'ingresso del centro abitato di Monterchi, la ragazza è stata invitata a preparare la cena. Poi la situazione è degenerata. Lei violentata senza pietà, sotto minaccia di un coltello, lui colpito prima a mani nude e poi preso a bastonate. I due sarebbero così rimasti l'intera notte in balia del branco senza pietà, che aveva chiuso a chiave l'ingresso e sequestrato loro i cellulari. Al giovane sono stati poi anche rasati a zero i capelli. Solamente il mattino successivo la coppia è riuscita a liberarsi, ha ripreso l'autobus e ha raggiunto Arezzo. Qui ha presentato denuncia. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile di Arezzo. La PM Chiara Pistolesi ha aperto un fascicolo. Gli agenti hanno anche denunciato quattro giovani nigeriani, uno per violenza sessuale e gli altri tre per lesioni e sequestro di persona. Il proprietario dell'appartamento dove risiedono gli otto nigeriani, un'affittacamere della zona, ha deciso di disdire il contratto di locazione per motivi di ordine pubblico. L'intera vicenda adesso sarà ripercorsa il prossimo venerdì di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo nel corso dell'incidente probatorio.